Il nostro calcio è competente, ad alto ritmo, con la straordinaria carica del... Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Supersound. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it Il mercato del Cagliari non finisce mai, perché per la prima volta della stagione ora comincerà ad avere tutti quei giocatori che non sono stati utilizzati. Altri acquisti, ma sono acquisti che arrivano dall'infermeria in larga parte. A parte per Tagna, che chiaramente dopo la mezza partita giocata a Bologna ancora non è stato utilizzato come nuovo acquisto. A parte gli altri nuovi acquisti, a Sidiacos, Vietesca, sono tutti giocatori che dobbiamo ancora scoprire. Lo stesso Prati, che ha appena giocato una partita. Il Cagliari adesso recupera Mancoso, recupera la sua Petagna. Si appresta piano piano ad avvicinarsi a recuperare la Padula. Non sembra un dettaglio insignificante. Se consideriamo che già nella partita scorsa noi abbiamo visto quanto sono importanti i giocatori che hai in largo numero, perché ti permettono anche di far tirare il fiato a quelli che sono gli assoluti protagonisti. Nessuno ha messo in evidenza, ad esempio, che ci si è permesso di tenere in panchina Nandes rientrato dalla fatica con la propria nazionale. E anche Sulemana, che aveva qualche acciacco, non è stato utilizzato durante la gara. Questo ti dimostra che con una rosa molto più ampia, con giocatori che possono essere scambiati, hai anche la possibilità di una gestione diversa rispetto al passato. Quindi costretto a utilizzare il calciatore, anche se magari con qualche problemino. E in quella situazione l'infortunio rischiava di diventare molto più pesante. Nuovi acquisti, quindi, che già devi utilizzare in un contesto in cui anche gli altri hanno gli stessi problemi. Non a caso andiamo a trovare l'Atalanta e già dal punto di vista anche delle caratteristiche l'Atalanta perde Scamacca, che non è certo inferiore o superiore a Muriel, ma è un giocatore diverso rispetto a Muriel. Quindi ti cambia anche il connotato un po' della partita, perché Muriel non è certo l'attaccante di forza, l'avversario di peso, che possiamo trovare all'interno dell'area di gore. Quindi un giocatore in meno, di grande struttura, peraltro molto giovane come Scamacca, uno un po' più datato, ma con una grandissima classe, come Muriel, che ci troviamo da dover affrontare. Perché questi sono i problemi di tutte le squadre, non è un problema solamente del Cagliari, di dover poi affrontare questi match, con il tentativo di rimediare a quelli che sono i giocatori che mancano. E quando si è parlato del fatto che siamo appena all'inizio, si parlava anche di questo. 25 giocatori, 26 giocatori che possono essere titolari, per poter essere interscambiabili, devono lavorare insieme. Non si può pensare che tutto sia stato già sfruttato, e che quindi la valutazione può essere assoluta sulla base di due partite o addirittura per qualcuno di mezza partita. Quindi fiducia, la fiducia è importante, la fiducia è la forza della vita, diceva qualcuno, la fiducia serve per poter lavorare con fatica, senza sentirla del tutto. Ed è per questo che i tifosi, in questo caso, devono stare vicini alla squadra. Il nostro calcio è competente, ad alto ritmo, con la straordinaria carica del Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Supersound.